Oggi possiamo vedere qualsiasi opera d'arte che vogliamo semplicemente cercando su internet o consultando un catalogo o guardando un video. La maggior parte delle opere le vediamo attraverso uno schermo o una pagina di carta. Ormai siamo abituati a questo, però l'era perché viaggiamo ancora per visitare i musei e i siti archeologici. Anche se abbiamo la possibilità di avere in tasca tutte le opere di cui l'uomo ha conoscenza, preferiamo comunque visitare un museo e quindi forse dover pagare l'entrata o un treno o un aereo solo per vedere un quadro dal video. Utilizzando tanto il cellulare e il computer, ogni informazione di cui abbiamo bisogno viene trovata in un secondo, ma ci siamo resi conto che questo dopo un po' non ci soddisfa più e abbiamo bisogno del contatto visivo e materiale. Molto spesso l'atmosfera attorno all'opera ci influenza in modo diretto. Trovarsi in un museo suscita in noi curiosità verso tutto quello che ci circonda, mentre trovarsi a casa non ci trasmette alcun stimolo. Vedere un'opera sul computer non sarà mai la stessa cosa che vederla dal vivo. Non si può pregonare all'esperienza di entrare in una stanza del museo e vederla lì, davanti a noi, come qualcosa di leggendario. Non vedremo i particolari come li vediamo dal vivo o gli sguardi colpiti delle altre persone nella stanza. Girando attorno ad una statua e osservandola nei suoi particolari, si è in grado di cogliere alcune sfaccettature riguardo l'espressività dell'opera, tipiche di una certa posizione dell'osservatore rispetto alla statua, piuttosto che di un'altra. Queste caratteristiche non possono essere percepite in una semplice immagine frontale e bidimensionale dell'opera. È necessario girarci attorno per poterne apprezzare la tridimensionalità. La situazione è molto diversa quando invece si esamina un'opera architettonica, un affresco o qualunque oggetto che invece è legato al territorio in cui si trova. In questo caso, perdere il contesto corrisponde a non avere una visione generale dell'opera e di conseguenza ne limita la comprensione. Un altro elemento che si perde, specialmente guardando ad edifici o sculture a distanza, sono le proporzioni che visti in immagine possono trarre in inganno. Innanzitutto, se si studia un'opera a distanza, non si ha la percezione della sua tridimensionalità né delle sue dimensioni. Può apparire molto più piccola e quindi perdere la sua imponenza o viceversa più grande e falsare l'emozione che intendeva trasmettere. Inoltre, nel caso dell'architettura, il luogo in cui sono situate le opere è spesso parte integrante di esse, insieme alla sua atmosfera, alla sua luce naturale, ai suoi suoni e talvolta persino ai suoi profumi. Un'opera d'arte vista la prima volta dà un effetto diverso rispetto alla visione di questa, le volte successive. Se questa prima visione è stata fatta a distanza, quando l'opera d'arte sarà vista nella realtà, le sensazioni suscitate dalla sorpresa potrebbero essere differenti o addirittura diminuite. Infine, la stessa opera parla in modo differente a ogni osservatore ed esprime sentimenti unici a seconda della sua interiorità e dell'omento della vita in cui si ritrova ad ammirarla. Dunque, fra il dipinto, il tempio, la statua e ciascun osservatore, vi è un legame intimo e irripetibile che può comunque nascere mediato da strumenti, quali fotografie e video, ma giunge al suo culmine se si riesce a conoscere l'opera di persona. È possibile quindi fare esperienze di un'opera ad alta distanza? Profondità, pennellate, giochi di loser spesso si perdono se viste attraverso un'immagine o un video. Libri, fotografie, poster e visite virtuali sono tuttavia fondamentali e preziosissimi perché si permettono di studiare e ammirare opere che spesso sarebbero esensibili e ci creano la giusta curiosità. Il sito di Google Arts & Culture è un ottimo modo per osservare opere d'arte a distanza. Vediamo come funziona. Questo sito ti permette di scoprire opere d'arte, musei e luoghi e propone inoltre piccoli giochi legati all'arte. Ma nella sezione Esplora, quella che ci interessa, puoi scegliere la categoria che preferisci e guardare opere d'arte selezionate, per esempio cliccando su artisti le opere verranno divise per chi le ha realizzate e poi selezionando l'artista e scorrendo in basso ecco che troveremo le sue opere che hanno altissima definizione e si possono zoomare per vederne perfettamente i dettagli. Nella sezione Esplora si può trovare una pagina del titolo Art Camera e in questa pagina sono contenute diverse opere d'arte che, cliccandoci sopra, vengono descritte nel dettaglio. alcuni in italiano e altri in inglese. Scorrendo con la rotella del mouse sull'immagine si faranno andare avanti le scritte che la descrivono e continuando a scorrere la foto verrà zoomata su alcuni punti previsti dalla pagina in modo da vedere più da vicino molte aree dell'opera considerata come ad esempio gli uomini che vedete in questo quadro di Rembrandt. Cliccando invece sulla voce qui vicino sempre a sinistra della voce Esplora si aprirà una mappa che mostra tutti i musei e luoghi artistici nelle vicinanze o in una città che cercate su cui possiamo cliccare per vedere una foto ma anche aprire il sito ufficiale. Ancora più a sinistra cliccando su Preferiti possiamo visualizzare tutte le opere che abbiamo contrassegnato come preferite esplorando precedentemente. Un altro aspetto molto interessante del sito comprende la categoria 360 gradi. Potremo infatti essere in grado di poter esplorare e scoprire siti archeologici e luoghi famosi ad esempio possiamo muoverci per le rovine di Pompei oppure essere catapultati nei famosi templi indiani. C'è davvero di tutto. Per aggiungere tale sezione dovrete seguire questi semplici passaggi. Nella pagina principale in alto a sinistra sono presenti tre righe orizzontali. Piggendoci sopra si aprirà un menu a tendina selezionate Esplora in alto selezionate Video 360 gradi. Ora vedrete già diverse idee ma per avere un quadro generale scendete in fondo alla pagina e selezionate Visualizza. Avremo un elenco di tutti i video disponibili apriamone uno per esempio possiamo vedere una descrizione e l'effettivo video è possibile muoversi con il joystick sulla sinistra o semplicemente premendo e trascinando con il cursore ora godetevi l'esperienza. Navigando sul sito si può notare che nonostante sia interessante e senza troppi problemi strutturali le tematiche inserite creano troppa confusione infatti è come cercare un ago in un pagliaio. Per ridurre le incongruenze la soluzione sarebbe catalogare meglio le tematiche e ridurre il contenuto di informazioni inutili. Il pregio maggiore del sito consiste nel fatto di essere un browser per la ricerca di qualsiasi forma di arte o informazione culturale collegato con siti ufficiali di musei e addirittura con Google Maps per esplorare luoghi di grande bellezza o valore culturale. Entrati nel sito si cade subito in una spirale di continuo stupore dovuta alla sovrabbondanza di notizie che trascinano il lettore da una pagina all'altra del browser tutte comprese tra l'età antica e i nostri giorni. Forse da qui si può prendere spunto per una critica che abbia un vero motivo di essere. Il sito rispecchia lo stato in cui vive la nostra società talmente sovraccarica di stimoli e informazioni da non sapere cosa farci. Metmuseum.org è il sito del Metropolitan Museum of Art di New York. Questo museo presenta più di 5.000 anni di arte da tutto il mondo in modo che tutti possano fare esperienza sia dal vivo che online. Un aspetto che abbiamo trovato estremamente interessante è la sezione dedicata alla cronologia andando su Learn With Us andando su Timeline of Art History andando su Chronologies compare una sezione in cui si può scegliere il continente e il periodo e visualizzare le opere di quello frangente che il museo ospita. Ad esempio selezionando questa cronologia selezionando il continente europeo queste sono le opere che ci compaiono. Un altro aspetto che abbiamo trovato estremamente interessante è la sezione Works of Art in cui si può fare una ricerca approfondita sulle opere del museo con tre filtri andando sulla sezione anche qua Learn With Us andando su Timeline of Art History questa volta però selezionando Works of Art come detto ci compare una schermata in cui si può fare una ricerca approfondita sulle opere del museo utilizzando tre filtri il periodo storico la regione geografica oppure la categoria tematica inoltre questo sito ci offre la possibilità di visitare alcune sale del museo virtualmente con i video a 360 gradi tornando sulla schermata andando sulla sezione Art andando su Art At Home scorrendo verso il basso fino a giungere a questo punto in cui ci compare un video che è un video esempio di una visione di una parte del museo a 360 gradi il sito della National Gallery offre una serie di possibilità interessanti per visitare virtualmente il museo nella sezione Arte e Artisti si possono cercare dipinti e artisti esposti nel museo di ogni opera si può leggere inoltre una breve descrizione vengono poi presentati una serie di video che parlano di argomenti specifici la sezione ricerca descrive alcuni aspetti della ricerca continua che il museo pratica riguardo alle opere esposte la sezione imparare propone di iscriversi a dei workshop a dei tour a dei tour a tema di pianificare dei tour con la scuola e molti altro nel suo complesso appare particolarmente agevole in quanto risulta intuitivo nella navigazione grazie anche all'ampio menu a tendina che viene offerto secondo noi dopo aver navigato ampiamente nel sito risulta interessante la raccolta highlights from the collection in cui vengono rappresentate le opere con l'indicazione del proprio titolo l'autore e la stanza nella quale vengono collocate le opere la localizzazione della stanza viene anche evidenziata all'interno della sottocartella floor plans dove vi è la possibilità di visitare determinate stanze del museo suddivise per piano tutto questo arricchisce la visita online rendendola il più possibile realistica sebbene come già detto sia un incontro virtuale con l'opera il sito museo d'antichità Winkelmann è ben strutturato infatti si divide in sette sezioni il museo lapidario tergestino visita la mostra bestiario favoloso notizie e lingue alle quali si può accedere nella pagina principale il museo si trova a Trieste in piazza della cattedrale 1 e in questa banda gialla possiamo trovare altri contatti per quanto riguarda le informazioni del museo il sito ci permette di scoprire di più sulla sua storia e di fare un viaggio virtuale tra le sue collezioni come possiamo vedere qua a destra questo sito offre un'utilissima opportunità ai visitatori stranieri e cioè la fruizione dei suoi contenuti nelle quattro lingue più importanti del nostro area geografica ci inoltre una sezione notizie in cui vengono elencati gli eventi che si svolgono con la partecipazione del museo o al suo interno nella sezione il museo si trovano le informazioni pratiche riguardanti la collocazione del museo e l'elenco dei locali che lo compongono questa sezione ha come scopo informare il visitatore di ciò che si può ammirare all'interno del museo dal lapidario alle collezioni greche ed egizie inoltre vi sono due approfondimenti il primo sulla storia del museo il secondo sul personaggio che gli dà il nome questa parte del sito dedicata al lapidario terzestino si dice le collocazioni che il museo ha avuto nel tempo inoltre si dice che questo museo al suo interno ha un percorso topografico che si aiuta a capire meglio l'antica città di terzeste successivamente c'è visita e troviamo una pagina dettagliata della struttura del museo in cui si spiega cosa si può trovare in ogni piano vi è anche una piantina per ogni piano dove spiega nel dettaglio attraverso dei numeri cosa si trova nelle sale ed è molto comodo soprattutto per chi è del posto e chi magari non possiede una cartina la sezione di sicuro più interessante è quella del bestiario ecco come navigare all'interno di essa se noi volessimo ad esempio cercare delle informazioni riguardo ai centauri potremmo passare il cursore sopra bestiario favoloso e già ci apparirebbero le varie schede delle creature oppure potremmo cliccare su bestiario favoloso e il sito ci porterebbe alla sezione del bestiario all'interno della quale dopo una breve introduzione potremmo cliccare sulle varie schede cliccando sulla scheda centauri il sito prima ci parlerà dei centauri della loro mitologia e del loro simbolismo poi ci indicherà le opere all'interno del museo nei quali essi vengono citati e del loro simbolismo e del loro simbolismo e del loro simbolismo